Benvenuti a Compila, quindi va! Sistemare un po' questo canale, perché la grafica ha bisogno di una svecchiata totale. Aspetta che rifacciamo partire la musica, che non vorrei mai che subissimo un danno, no. E' ripartita? Boh, non la sento. Penso di sì. Devo metterla, ma che non sia troppo alta per... che rompa le scatole. Tanto stasera è una rive rilassata, non ci sono né argomenti, né... In realtà stavo dando un'occhiata prima di partire a un paio di news, così da segnalare nel caso fossero sfuggite. Anche se di solito i frequentatori di questo canale sono molto attenti su quello che riguarda le novità, ma... Ho anche mal di gola, spero di non ammalarmi, anche perché fino adesso me lo sono schivato. Siamo vicini alla fine dell'anno e quindi... Se penso all'anno scorso che ho fatto Natale, Capodanno col Covid, ho passato il Capodanno da solo nel mio mesto appartamento. Potevo fare una live, una mega maratona di programmazione la notte, la notte del 31. Era una cosa un po'... forse un po' borderline, un po' faticosa, ma... E quindi mi sono affacciato al balcone, ho visto gente che esplodeva... che esplodeva Mortaretti. Mi hanno detto, dai scendi, cosa fai a casa? Scendi, non posso, ho il Covid. Maledizione. Ho saltato il Capodanno e ho saltato anche il Natale, un pranzo di Natale dove ho preparato praticamente 14-15, come dire, dolci monoporzione con cioccolato e panna montata che mi sono mangiato io piano piano. E quindi da lì poi ho detto, basta, adesso finiti questi, poi mi metto a dieta. E quindi è iniziata la dieta. Mi hanno dato un aiuto per iniziare la dieta. No, diciamo che... Questa sera c'era un'altra... Avevo in programma una live differente, però poi mi serviva un attimo per organizzarla. Ecco, mi mandano messaggi adesso proprio che... che sono... che sto facendo la live, mi scrivono in 100.000, sempre così. Cos'è che stavo dicendo? Non riesco a ricordarmi quello di cui sto parlando da un secondo all'altro. No, stiamo progettando dopo qualche anticipazione, giusto per... perché in realtà si farà poi nel nuovo anno, vabbè, manca poco, quindi alla fine... una liveettina non da solo, però possibilmente con qualcuno che abbia voglia di partecipare. Adesso ho selezionato un po' di compagni di viaggio. In realtà sarà una live non impegnativa, però collettiva, nel senso che si vuole un attimo parlare sia con... con quelli che sono collegati, quindi più persone collegate, sia quelli che sono in chat e che eventualmente partecipano... di iniziative su come divulgare Delphi, di come renderlo, insomma, un pochino più visibile. Era un'idea che mi era venuta perché partecipando a LinkedIn, vedendo alcuni post... un post che aveva fatto... aspetta che mi sfugge il nome, mi ha messo un like anche alla live di oggi, ma... non ho più... adesso lo trovo, eh... adesso lo trovo... e magari ve lo potrei anche far vedere... per qualcuno che magari guarda... in realtà non so come si dice... Silas Aiko... non so se si dice... effettivamente così... eh... perché mi mandano delle foto di... delle foto di zucche... giganti, ok... eh... allora... eh... ta 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 ta... non so, quasi quasi ve lo... ve lo mostro, così... cambiamo anche schermata, vediamo che sia tutto... no... tutto a posto... questo era il post su Facebook... sul gruppo LinkedIn... che si chiama Delphi Professional... e... c'era un... enhancing Delphi... addressing key concert... eh... ha fatto un post interessante secondo me... eh... eh... sul lato dell'issue... tra l'altro con tanto di icone... quindi... come si fa tipicamente... per... una... musica un po' alta... forse... un po' più... un po' più giù... e... che stavo dicendo... ah ok... la memoria di un pesce rosso... su... cose da fare... adesso... non mi ci dilungo troppo... anche perché... dovrebbe essere proprio oggetto... della... eh... della live... però c'era questo post interessante... su... eh... migliorare... come dire... la... Delphi in sé... ma anche direi... la percezione... quindi... gli issue di Delphi... eh... a livello generale... quindi... si partiva dal punto 1... eh... sono free... e questo... forse... è anche un po' sintomo... del fatto che... eh... Delphi principalmente... per professionisti... non è un tool free... e quindi... chi ci... lavora per sviluppo... magari... più... eh... più interesse... a... a commercializzare dei componenti... piuttosto... ecco... che... sviluppare degli open source... anche se... spesso... vengono rilasciati... molti... librerie... componenti open source... almeno per... eh... come dire... le esigenze principali... che abbiamo... ci sono parecchie anche di... e bisogna dire che... anche se... molti componenti... sono commerciali... eh... io so... che ne esistono alcuni... commerciali... ma veramente... ottimi... eh... tipo... quelli che... eh... eh... commercializzava... RemObjects... eh... per cui... eh... eh... sì... eh... a volte si pagano... ma... la qualità... salvo qualche eccezione... ovviamente... eh... è abbastanza... è abbastanza alta... quindi... eh... però certo... avere più liberi open source... eh... non so se il problema è questo... o meno... perché... mh... non so se... qui è indicato come il punto numero uno... non sono sicuro che sia effettivamente questo... però può essere che qualcosa... anche perché su altri ecosistemi c'è la problematica contraria... cioè... troppe librerie per stessi... come dire... per stesse esigenze... quello che a volte succede è che magari ci sono tante librerie open source... perché... chiunque si mette a svilupparle... a prescindere dalla... dalla competenza... poi è chiaro che ci sono delle community... però a volte... come dire... vengono... ce ne sono alcuni che vengono presi e lasciati... eh... oppure che hanno delle vulnerabilità che poi non vengono corrette... non vengono gestite da... da chi poi si... si occupa del... di... di... di mantenere queste librerie... eh... mi viene in mente ad esempio il caso che c'è su Node... della libreria Express... quella per fare web application che... attualmente ha un problema essendo... largamente... diffusa e utilizzata... in milioni di progetti però... eh... tendenzialmente abbastanza... lenta rispetto ad altre alternative più... più snelle e anche problematica... da diversi punti di vista... eh... è dura però abbandonarla perché chiaramente ci sono... troppi progetti che sono correlati a quel tipo di... a quel tipo di... di libreria quindi... avere anche un sistema ricco... ha i suoi vantaggi... ha più vantaggi che svantaggi... questo sicuro ma... a volte non è detto che questo... eh... come dire... comporti... ci sia necessariamente determinante... sicuramente... avercene è ottimo... di... per dirvi ce ne sono... forse ce ne vorrebbero di più... quello si però... eh... che il problema sia forse nella loro numerosità... può essere forse un... un po' un... un punto discutibile... eh... YouTube Channel... eh... sì... effettivamente qui... forse... si intendeva... channels... che... eh... deficitano un po' di qualità e quantità... ce ne sono pochi... questo è vero... eh... alcuni con... più che altro dei video... come dire... diffusi da un certo punto di vista... come... qualcuno che magari regista un tutorial... non mette delle cover magari un po' interessanti... non lascia delle... eh... come dire... dei contenuti... non... non... non fa diciamo cose appunto per il pubblico... ecco... magari divulga... sono filmati interessanti... però non sono... engaging... come dice qui dal punto di vista di... di attirare un occhio... magari anche di qualcuno che non è uno sviluppatore delfi... che vede qualcosa... ed eventualmente capisce che... può... questo può essere vero... però... anche in questo caso... ci sono... ho diversi dubbi... nel senso che... vedo... che a volte anch'io sul... sul mio canale che non è nulla di che... magari ci sono alcune cose che sono più guardate... eh... senza raggiungere ovviamente il numero di... di visualizzazioni elevato... ma altre proprio trascurate... grossomodo... l'arrivo... è dato da... da ricerche... quindi... motore di ricerca... magari... non so... crea un'app per... colloquiare con... chat GPT... qualcuno cerca... app mobile... chat GPT... a proda... però... come dire... le parole chiave che trova... sono tutte tranne quelle... tutte tranne delfi... ecco... questo è un po' il punto di vista... benché... in quel caso possa essere utile... perché alla fine... comunque arrivando sul canale... c'è chi comunque... vede che si fanno... un progetto in delfi... che si fa abbastanza velocemente... quindi potrebbe essere... incentivato... a... comunque guardare il filmato... a provare delfi... perché vede che... quello che stava cercando... al netto del linguaggio... consente di ottenere risultati che magari... stava... per i quali stava cercando soluzioni... quindi... magari uno cerca... appunto... app per chat GPT... o per generazione... di immagini con... un'intelligenza artificiale... arriva sul... sul canale... sul filmato... è chiaro che... se sopra c'è una cover... magari compare in mezzo ad altri risultati... quindi se c'è una cover accattivante... che fa vedere qualcosa... qui chiaramente ci vorrebbe un po'... un esperto... le mie non penso lo siano... ma... non sono un esperto effettivamente... di... di YouTube... e quindi non saprei... terzo punto... c'era questo... associazione... modern UI design... che invece... secondo me... non ci sta proprio... ovvero... sì... è vero che alcuni tool... per sviluppare l'interfaccia grafica... molto custom... sono abbastanza... fondamentalmente rudimentali... perché il bitmap style designer... ci si importa... come dire... il... un qualcosa fatto con Photoshop... e quindi... da quel punto di vista... può essere chiaramente qualcosa che... se ho Photoshop... posso chiaramente lavorarci... e fare tutto quello che voglio... però ovviamente devo avere quello strumento... e... incorporato... il tool non è che abbia... chissà quali funzionalità... però da questo punto di vista... ecco... interfaccia utente... penso che... soprattutto... lato FireMonkey... non sia un problema di defi... perché tra i temi... e... tutta un'altra serie di... di tool... che ci sono... ecco... rispetto ad un'applicazione... magari Windows Form... ecco... penso che... anche sul mobile... penso si riesca comunque... a ottenere dei buoni risultati... quindi... il fatto che questo non sia conosciuto in più... ovviamente è un... potrebbe essere una problematica... però è una problematica... secondo me più generale... che riguarda... non solo l'interfaccia utente... ma anche le feature... del linguaggio... dell'ambiente... eccetera eccetera... più... altri aspetti... infatti poi... sotto c'è stato un po' di... un po' di commento... partially true... quindi... con un po' di... che... fondamentalmente... dice poi... qualcosa... che... quello che poi ho detto anch'io... quindi... mi trovo abbastanza d'accordo... anche qui... vabbè... quello che considera poi... modern UI... l'utente... è solo un'interfaccia come... Postman... Discord... Telegram... che più che modern... sono delle applicazioni web... io quelle non le considero... modern UI... sono applicazioni web... un flat design... lo potremmo ottenere... abbastanza facilmente... in Delphi... quindi... applicazioni come... Whatsapp... o come Telegram... si possono... tranquillamente fare... in FireMonkey... alcune di quelle... designate... vengono... abbastanza naturali... ci si abitua... perché... fondamentalmente... le si vede in... fatte con... Electron... o tecnologie simili... però andiamo a vedere... poi la rama occupata... e vediamo... quanto... quanto... viene fuori... un... completely true... e qui c'è... Ian... Barker... il nostro... software development manager... che... come dire... invita un po' a scrivere... diciamo... dei feedback... a riguardo a quello che... quello che va... quello che non va... e quindi... questo sicuramente... sarà un po' un punto di partenza... a riguardo... poi si... c'è la parte ovviamente... del... del prezzo... qui ho aggiunto alcune mie osservazioni... in realtà... poi... il prezzo... la cosa più difficoltosa... che... riconosco anch'io... volendo... avviare qualcuno... utilizzarlo... e... sono anche i requisiti... della community... non in termini di... rimanere... negli ambiti della licenza... ma... nell'andare a fare... come dire... nel doversi... registrare... attivarla... seduta stante... ecco... si arrivano magari... tante attivazioni... da uno stesso... punto... perché magari... lo so... lo sto facendo vedere... cinque persone... faccio un workshop... e ci sono cinque persone... eh... come dire... interessate a installarlo... magari... vengono a fare... un controllo di licenza... vengono... a controllare... magari pensano... che sia un'azienda... che sta facendo... un... una violazione... del... del contratto... insomma... ci sono alcune cose... legate alla community... eh... non posso installarla... side by side... neanche... per motivi di formazione... forse adesso... è possibile... perché... essendo un'altra versione... magari... se mi installo... una... community... eh... undici... con Delphi 12... ci riesco... però... ecco... avendole tutte e due... nella stessa macchina... mi arriva... e mi dice... cosa stai facendo... nonostante io stia... effettivamente pagando... abbia una licenza attiva... ci sono un pochino di... ehm... ci sono un pochino di cose... che sarebbe interessante... sviscerare... poi... confrontato... anche con altri... player... del mercato... come JetBrains... eccetera... che... a netto di... non voler confrontare... i vari prodotti... ci sono... comunque... delle mosse commerciali... che secondo me... potrebbero essere... un pochino più... ehm... come dire... fatte meglio... o... o vagliate... per... per avere qualcosa di più... non lo so... per trovare delle soluzioni... che... riescano a... a diffondere maggiormente... il... il tool... a coloro... che eventualmente... non lo conoscono... questo è un po'... però... faremo questa live... a briglia sciolta... quindi... l'intento è anche... fare qualcosa di molto leggero... ehm... senza... come dire... menarcela troppo... giusto per... sia per... appunto... organizzare un... un piccolo evento... una sorta di... di... di community... ehm... buonasera Muzio... ben arrivato... e... niente... stavo dando un'occhiata... a un articolo... non so... quando sei entrato... ma dove si parla... del futuro di Delphi... e quindi... stavo dicendo... a chi c'è... che io non... non vedo nulla... ma devo... sistemarmi un po' il mio... i miei... i miei... scusate... sei scusato... sei scusato... ma che non... che non accada più... guarda... neanche per le feste... e quindi... diciamo sì... ciao a Giotto Geno... ah... che basta che... che uno rompa il ghiaccio e... ma andate tranquilli eh... che non ci sono problemi... ehm... dicevo... questa live... un po' per... ehm... per vedere assieme... questi aspetti... sento un rumore... al gatto che si mangia... le crocchette... per... per capire un po'... se c'è modo di aprire... questo... questo tool... un po' anche all'uso... di... di chi non lo conosce... insomma... c'è gente volenterosa... però ci sono effettivamente... dei limiti... dei freni... che forse andrebbero un attimo... e qui il buon Ian... lascia la mail... ma bisognerebbe... io gli chiederei... ma sei tu... hai potere decisionale... in questo... in questo ambito... perché alcune cose... vengono... eh... dette tante volte... in tante sedi... però poi... considerate poco... e quindi... a me scrivono in privato... che... gente che... gente che torna... a Delphi... gente che migra... verso altri linguaggi... non ho ben presente... qual è la situazione reale... quindi... però... faremo questa liveettina... dovevamo farla... prima della fine dell'anno... però effettivamente... il tempo era stretto... anche per avvisare... un po'... possibili... interessati... e anche a partecipare... via chat... perché l'idea appunto... è aprire questa cosa... un po'... un po' al pubblico... e anche... insomma... parlarne... con alcuni... che sono... sviluppatori... dei fili di lungo corso... e anche... con la chat... in modo da... condividere idee... e magari... può essere qualcosa... che... segnalato... chi di dovere... può essere uno spunto utile... per dire... guarda... qui c'erano... queste persone in live... c'erano queste persone in chat... queste sono un po' le idee... che... chiaramente... se sono attualizzabili... magari potrebbero essere un ottimo... un punto di partenza... per... per condividere queste idee... qui c'è l'aiutante... che si aggira... qui sotto... Dica... tutto a posto... hai mangiato... perfetto... almeno lui è contento... eh... già che c'ero... segnalo un po' di cose... che sono... eh... sono state messe... eh... su... Delfi Club Italia... eh... di questa settimana... e quella scorsa... che magari vi sono... sfuggite... adesso vado un pochino più... eh... indietro... no... direi che qui... andiamo... siamo inizio mese... quindi... c'è questo... webinar molto molto interessante... tra l'altro qui... eh... questa è la pubblicizzazione... però... forse... c'è già il link... eh... eh... Docs Google... dovrebbe esserci qualcosa... mannaggia... vabbè... comunque sul sito di... Daniele... Daniele Tetti... eh... c'è... eh... un attimo... questo mi era sfuggito... forse l'ho letto e non mi ricordo... però... ci sono due post... interessanti... ha seguito la live? Sì, l'ho seguita... infatti volevo segnalarla... perché è stata molto interessante... qui c'è... qualche... qualche dettaglio... a riguardo... perché effettivamente... alcune cose... non ero... non le avevo... non le avevo notate... non ci sono... non mi pare... forse nelle what's new... magari ci sono... ma sfuggono... e... siccome... come dire... è stato pubblicato anche il video... quindi... e sono cose interessanti... ci sono esempi... ci sono slide... eh... a chi interessa... secondo me è stato un webinar... molto interessante... perché ci sono... effettivamente... delle... delle chicche sull'RTL... cioè... la libreria... l'obiettivo di questo webinar... era... eh... far vedere... gli strumenti dell'RTL... cioè della libreria base... quindi sapete che quando usate... un... un qualunque linguaggio... sia Delphi... sia Java... sia... quello che volete... eh... conosce le librerie base... cioè quello che... ovviamente viene fornito... per iniziare a programmare... è fondamentale... proprio per non... appunto... un ufficio... non vediamo l'ora... di montare la 12... di non inventare la ruota... perché... eh... ci sono alcune cose... è sonnetto che... eh... qui... effettivamente... alcune cose nuove... erano proprio solo della 12... quindi... è interessante... che sia stato fatto un... una serie di aggiunte... non... non indifferenti al... al prodotto... perché... sono... sono interessanti... ma... in linea di massima... ce ne sono alcuni... che già esistevano... da versioni precedenti... che... a volte sfuggono... nonostante... eh... ci siano... eh... supporto... nel webinar... se ne parla in maniera... estensiva... quindi... ehm... qui c'è un esempio... di... subrainstream... aggregate stream... quindi... delle classi proxy... per mettere assieme... più stream... eh... oppure... per estrarre... delle... quindi creare uno stream... che legge sui dati... da una parte di un altro stream... con possibilità di ownership o meno... eh... durante il webinar... ho rotto un po' le palle... con... probabilmente... ho scritto un po' di domande... ma... cercavo un attimo anche di... di capire... quali potevano essere i dubbi... delle persone... così... eh... sono stati aggiunti diversi numeratori... a diverse classi... eh... poi c'era... la... eri tu... il Marco citato... sì... più volte... nella chat... forse... non so se si vedeva... perché io scrivevo nella chat... eh... sì... ero io... rompi... rompi i coglioni... che... in realtà poi sono... erano le risposte... potevo andarmene a trovare... però ho visto già che ne parlava... ho detto... vabbè... sfruttiamolo fino in fondo... eh... sì... ero io rompi... perché... sono abituato... ormai mi sono abituato... a... a fare delle chat interattive... quindi... nel webinar... eh... beh... non penso che... se ne siano avuti a male... anzi... ehm... poi c'era... il supporto degli... degli squids... questi... id... eh... univoci... che sembrano... diciamo... generati automaticamente... con delle parole... ad esclusione di parole sensibili... che adesso vanno molto di moda... cioè ci sono... che poi è utilizzato... un sistema utilizzato in RAT Server... però... in realtà è implementato in una unit... che può essere usata... senza... il bisogno di RAT Server... e quindi... probabilmente... in questo caso... Delphi MVC Framework... che prima o poi... lo andrà a integrare... direttamente... quindi... esatto... per le... per le API... eh... è una cosa molto interessante... quindi... anche qui... inizio live... si parlava un po' di... motivi... di limitazione di... dei suoi libri open source... eh... in questo caso... alcune cose... spesso sono anche già incorporate... quindi... di alcuni... ad esempio... io... mi ero fatto venire... tempo dietro... l'idea di fare una... libreria alternativa... ehm... c'è una libreria... che avesse più o meno... le funzionalità di Bogus... che è una libreria... che ho usato in .NET... che genera dei dati fake... però... ho visto che... non l'ho approfondito... perché poi... ho lasciato un attimo stare il discorso... però... pensandoci... c'è il prototype... bind source... quindi c'è già... un... un dataset all'interno di Delphi... che produce... dati per campi... dove... possiamo scegliere... bitmap... nomi... cognomi... e genera dei dati casuali... quindi... eh... sicuramente un meccanismo... di questo tipo... c'è già... quel componente lo espone... ma... non ho approfondito... come implementato... ma... do abbastanza per scontato... che le due cose siano separate... che... l'uno sfrutti l'altro... ma che possa essere sfruttato anche... in altro modo... quindi... cioè... per alcune cose... fondamentalmente... non ci serve... una libreria... perché è già incorporata... ma questo vale ovviamente... anche per gli altri linguaggi... basta pensare... la .NET con il JSON... cioè... c'è una libreria usata... ovunque... che attualmente... è dismessa... perché... in .NET... c'è un namespace... system... text JSON... mi pare... a memoria... dove ci sono... ad oggi... le funzioni di serializzazione... quindi... magari le librerie... le fanno meglio... le fanno in modo diverso... però... troviamo sempre più cose... che sono già incorporate... e nel 12... ci sono state molte... molte cose... addizionate... interessante per l'API... invece di passare... le cose in chiaro... sì... questo... squiz... che si scrive poi... vabbè... qui... aspetta... prima di abbandonare... questa pagina... per chi è interessato... copio... l'url... eh... del blog... così... eh... hanno anche... un... eh... squiz... scritto... con la Q però... Formally Ashed Is... sì... è una sorta di... è un algoritmo fondamentalmente... è un hash... che produce... eh... roba di questo tipo... adesso... non... non riesco a... a zoomare... però... un identificativo fatto così... che... per certi versi è utile... perché... come dire... rispetto a un guide... è molto più corto... quindi anche mnemonico... è facile da comunicare... è sempre univoco... è autogenerato... bisogna stare attenti a scegliere un algoritmo abbastanza... eh... come dire... un set di caratteri magari abbastanza ampio... per rappresentare molti valori... eh... senza richiedere troppe lettere... perché poi una volta modificato... eh... quel criterio... c'è rischio di generare valori uguali... quindi... bisogna stare un attimo... un attimo attenti... eh... però... è un modo per... passare da... id... eh... univci... magari numerici... a un id... che è... come dire... eh... non è parlante... perché... se io magari qui... invece che... esempio.com... a un... mywebstore... slash... products... slash... con un product ID 2... metto un 2... ipotizzando... cioè... vedendo che c'è magari il prodotto 1 e il prodotto 2... io so già che mettendo il 3, 4 e il 5... vado magari... a fare un editing di prodotti... eh... cui non sto navigando tramite il sito ma... ehm... andando a cambiare dei parametri nell'URL... quindi se vedo una sequenza logica... ehm... mi è anche abbastanza facile ipotizzare... quali siano gli altri valori... entrare e andare a vedere... è questo tipo di... chiaramente se sono un utente che non... non deve fare quel tipo di... di operazione dovrei essere bloccato dall'API o dal sito... però a volte... ehm... se come dire... scicchiamo in un certo senso il controllo... eh... rendiamo comunque più facile l'accesso... ecco... questo è un po' come un... mascherare all'internal... fornendo un ID comunque leggibile... tendenzialmente corto e rappresentabile... che però non sia sequenziale... non sia legato a... eh... quindi avete una unit... in... in Delphi che gestisce questa cosa qui... e nel webinar se ne... se ne parla... quindi questo è uno standard... è un'implementazione di uno standard... per cui le informazioni che trovate... su questo sito qui... eh... valgono... globalmente... e poi... nella unit di Delphi... quello che avete è... fondamentalmente... l'implementazione... eh... Pascal... eh... quindi non sono... eh... come dire... reversibili... eh... magari devo fare l'encoding di oggetti... eh... riesco a mettere uno stringone... eh... dei... dei token... ecco... quelli... per avere un valore un po' più corto... per dati... tendenzialmente... eh... temporanei... o per codificare delle chiavi primarie... in modo che io non abbia... proprio l'ID... numerico... sotto i denti... eh... pronto all'uso... eh... quindi qui... non so se è citato... Delphi... non c'è... c'è di... probabilmente andrebbe aggiunto... tutti gli effetti... eh... qui si possono fare un po' di test... un po' di... un po' di cose... c'è un'implementazione un po' per tutto... quindi... eh... magari qui poi ce ne sono alcuni... beh... però c'è il Pascal... quindi... eh... encode... decode... ok... c'è anche forse una libreria... open source... non so se è quella che è stata... eh... squiz... beh... questa è proprio... eh... fatta dal... da loro... quindi... non so se è quella che sta in... testato con Delphi 11... non so se è quella loro... o se è alternativa... quindi... non ho capito se... hanno integrato questo o meno... comunque me la... me la metto lì... e poi me la andrò a... eh... analizzare così... quindi... anche questa è un'altra aggiunta... eh... oltre a questo è uscito un altro... filmato... diciamo... di cose... non necessariamente... non vedete che l'utilizzo è veramente... veramente... molto molto semplice... eh... quindi c'è il... il suo creatore... con l'algoritmo... c'è anche una... eh... come dire... una... una blacklist... per parole... da non mettere... perché sai... ma avendo una... una combinazione di parole... che crea degli esci... se finisce... se viene fuori una... una parolaccia... magari bannabile su questo canale... eh... diventa un po' un problema... ehm... oltre a questo... c'è un'altra... sessione interessante... che è questa qui... eh... del... tenuta... all'International Pascal Congress... che è una conferenza... che è stata fatta un po' di... un po' di tempo fa... e non è... eh... dove si parla... come dire... della storia dello sviluppo web... in poche parole... dal... dalle prime tecnologie... passiamo da CGI... a Fast CGI... eh... passiamo a... si parla di web broker... si parla di... eh... PHP... di rapporti tra linguaggi di script... in linguaggi... eh... tipizzati... e... la visione diciamo... di chi utilizzava il Pascal... eh... eh... per lo sviluppo web... fino a... ai giorni nostri... dove fondamentalmente... la generazione di pagina dato server... è stata abbandonata... in favore di... ehm... data... server side... e sviluppo poi client... per... quello che riguardano... quella che riguarda... la parte di front-end... quindi... con JavaScript... si parla anche di WASM... ma si parla di... di varie cose... è abbastanza... è abbastanza interessante... secondo me... vi lascio... il link anche di questo... e quindi... per vedere un po' di storia... però... per vedere anche... la cosa carina... che effettivamente... vedendo un po' tutto questo escursus... si vede che... ci sono un sacco di tecnologie... che sono... per vari motivi... diventate... sono consolidate... per lo sviluppo web... ma... in un certo senso... c'è un po' la tendenza... in certi casi... a... plasmarle... farle diventare qualcosa... che fondamentalmente... col... con l'Object Pascal di Defi... noi in realtà... già un pochino... avremmo... comunque... quindi... ad esempio... si parlava di... utilizzo JavaScript... su un back-end... oppure su un front-end... creando delle applicazioni... cioè... le esigenze di creare... ad esempio... qualcosa come TypeScript... nasce... eh... per tipizzare... qualcosa che non lo è... però... a quel punto... bastava... trovare la soluzione... per... utilizzare un linguaggio tipizzato... e... leggibile... magari... come il Pascal... lato... lato server... ma anche lato client... per... lo sviluppo web... e non c'era bisogno di... come dire... un linguaggio nuovo... che... portasse all'interno... che... creasse i tipi... in un linguaggio... che è JavaScript... che nasce con... altre finalità... eh... tant'è che poi... TypeScript... alcuni lo odiano... alcuni lo amano... e quindi... è una cosa un po'... una creazione interessante... ovviamente... da questo punto di vista... tra l'altro... fatta dalla stessa persona... eh... giusto... che poi ha creato sia... edify che... dotnet... non a caso... quindi... eh... però... ehm... come dire... interessante... un po'... come cronistoria... di... come dire... eh... dove siamo... dove... dove siamo arrivati... e poi... vabbè... c'è anche una... pubblicità di un... di un corso... eh... qui... non so... se sono state messe anche delle... no... librerie... slide... no... però... so che c'è il sito... quindi... eh... dal link si può... si può andare a vedere... ci sono un altro paio di... di sessioni... probabilmente le stanno pubblicando un po' alla volta... infatti... volevo anche segnalarvi questa cosa... che... eh... non so... perché mi fa vedere... della roba che non c'entra... eh... nulla... visto che ho il mio account... però... adesso vado a vedere... eh... no... scusate... non c'entra niente... eh... what's new... what's up... ci sono dei nuovi filmati... sul canale di BitTime... eh... quindi stanno un po' pubblicando un po' di cosini interessanti... in questi giorni... sui... git internal... Maurizio Del Magno... e questa è una sessione che vi consiglio... che è stata... eh... rivista... anche... come dire... vabbè... abbiamo anche quella dell'RTL che vi... che vi... che vi segnalavo prima... però questa git internal... non è necessariamente per... eh... sviluppatori... delfi... nel senso che vale per... per chiunque... eh... eh... una ri-edizione è stata portata all'ultimo Delphi Day... eh... di cui non so se hanno già pubblicato anche il materiale o meno... però qui è interessante... perché si parla dell'internal di git... non è una sessione complicata... anche perché... il... il buon... il buon Maurizio... sempre la... la capacità di fare delle slide veramente... molto cinematografiche... ovvero con... full motion... e quindi... e dico sempre... se uno non capisce quelle slide... vuol dire che ha problemi lui... perché... nella comprensione... perché sono sempre chiarissime... e sono molto... eh... interattive... quindi... e questa sessione è molto interessante... perché fa... parla di git... non a livello di... eh... classica operatività... cioè... ovviamente quella c'è... eh... però... degli internal... ma non... facendo un discorso complesso... perché in realtà... git è uno strumento... veramente molto... eh... come dire... easy... quindi molto... molto tranquillo... eh... fatto con... con pochi elementi... ecco... non so trovare un termine... con poche cose... che sono... un paio di file... alcuni puntatori... eh... riesce veramente a fare un sacco di cose... e... secondo me... vedere gli internal... e capire un po' come ragiona... è un aiuto fondamentale... per poter utilizzare git... a livello... non dico... cioè... professionale... dico... con fiducia... ecco... cioè... senza che ogni operazione che voi facciate... la vediate come un qualcosa di completamente diverso... perché... eh... gestire lo staging... fare le commit... il push e il pull... cioè... vedendo quello che avviene dietro le quinte... queste operazioni... ehm... verrà reso subito comprensibile... la compressione... mi vengono in mente tanti fenomeni... di questo tool... sono fondamentalmente un riutilizzo... di pochi concetti... chiave... che sono dei file... eh... alcuni di test... alcuni... comunque binari... e dei file con... dei nomi e dei puntatori... quindi... eh... cioè una serie di elementi... che salvate su file... abbiamo... gli possiamo dare un alias... e quindi... li possiamo imbattezzare in questo modo... eh... poi hanno messo... quindi questo sei giorni fa... però... ehm... è comunque interessante... poi ce n'è un altro... qui il tempo... chiaramente era abbastanza... eh... a parte che forse... ero in due parti... non ricordo... ehm... è arrivato un... un alert... ma non vedo... ben arrivato... outdated... da che non leggo il... ehm... ok... I want to offer promotion for your channel... ok... questo è uno spammer... quindi... aspetta che proviamo... ehm... come dire... come... come si... come si modera... adesso lo andrò a pescare... ehm... ci vuole... ci vuole... ci mancavano solo gli spammer... quindi... vabbè... è strano perché non vedo... ehm... scusa... adesso devo... vabbè... dopo ci butto un'occhiata... perché di solito mi compaiono... mi compaiono i miei tool... forse lo vedo da... da qui... ehm... ok... ban... vediamo se... ok... perfetto... ciao... ciao caro... mi piace anche il... sorry to bother you... ma... comunque... mi spiace disturbarti... ma... comunque disturbi... e quindi... promozioni live... direi che... non... non sono ben accette... grazie per l'offerta... però... ciao... ehm... vola... come si dice... ehm... bene... si vede che sono importante... quindi... vabbè... basta... basta battuta... ehm... dicevo... c'era... è uscito anche questo... view composition... con i componenti di IORM... che è un altro... ehm... più di IORM... perché c'è anche il... la parte di binding... interfaccia... cross platform... un pattern... MVVM... quindi... rivisto... e quindi... ci sono... un sacco di cose interessanti... anche questo è un prodotto open source... e quindi... buttate un'occhiata... a questi filmati... quindi... dovrei fare per ogni live... la rubrichetta con... le news... settimanali... altre cose... direi che... questo è... quello che dicevamo prima... IPC... eh... post aggiornato... con materiale da scaricare... eh... questo direi che... l'ho già segnalato... è sempre quello... eh... post aggiornato... ok... del... webinar sull'RTL... trovate anche le slide... tutto sul... sul sito che vi ho segnalato... vi era bisogno di una major list... per i cambiamenti fatti nel 12... forse mi è sfuggito qualcosa... ah... perché di solito... c'è un set predefinito... ma... io poi... eh... questa gente che ha sempre voglia di fare... della polemica sul nulla... vabbè... che dico io... c'hanno tempo da... ah... sì... c'è anche questa cosa qui... un... rilasciato open source... un... AWS SDK for Delphi... nel caso vi... possa interessare... eh... ovvero... un... pacchetto per... no Facebook... no... però... stava andando tanto bene... no... perché... non ho capito... qual è il problema... il problema di Facebook... non lo so... comunque... ben... ben arrivato... il first time chat... non l'ho capita... spiega... spiega... che... perché per i boomer... ah... ok... eh... vabbè... ho lì... i link sono lì... eh... lì li trovo... e lì li uso... il gruppo per Delphi è lì... e quindi... c'è poco da fare... quindi... però... non siate così rigidi... nel bollare... cose per i boomer... non per i boomer... conosco gente più vecchia di me... che scrive su social... e condivide roba su TikTok... che è meglio che non dica nulla... quindi... per... per... parafrasare... come dire... Forrest Gump... boomer è chi... che il boomer lo fa... quindi... comunque... benvenuto in... nella... nella live... qui... stasera... stasera... poche cose... non... non si scrive il codice... si prendono un sacco di insulti... si... quello è vero... no... ecco... per discutere... Facebook non è adatto... quindi... quello sicuro... eh... concordo... anche se vedo che... più o meno un po' dappertutto... vedo che anche Instagram non fa... o anche Twitter... su Twitter... c'è molto sarcasmo... su Instagram... c'è molta... polemica... su... su Facebook... c'è la cattiveria... ogni social... diciamo... si prende un po' la sua parte del... si prende un po' la sua parte di... di... cioè... comunque sempre negativi... però... vabbè... questo è un po' il... il male dei social... ecco... questo... dici Shades... cosa fai di bello... se sei qui per caso... oppure se sei uno sviluppatore o... solito facciamo coding... su questo canale... però stasera... la voglia era zero... e anche l'energia... e quindi... in realtà doveva essere un po' un... vabbè... facciamo due chiacchiere... prima della fine dell'anno... così... eh... dicevo... abbiamo questo... sdk... che secondo me... era un prodotto commerciale... eh... di questi... lang graph dev... che poi è stato... rilasciato... adesso do un'occhiata... giusto per capire... è stato rilasciato... open source... fanno dei corsi... fanno... mi sembra che sia una... quality is our obsession... excellent is our goal... eh... che lusso... ehm... ok... però c'è... certified part... ok... fanno... fanno robe... fanno corsi... è un prodotto TMS... può darsi... eh... online school... fanno anche dei corsi... prima volta che... no... forse... sembra me però... sì... molto... è uscito anche un... sì... un Delphi... sul libro... sono sviluppatore... ho visto la categoria... sono venuto a vedere com'era... eh... ottimo... quindi sei in buona compagnia... che linguaggi usi... adesso qui... giusto perché già... ho beccato del boomer prima... beccherò del boomer di nuovo... ma di solito faccio coding con Delphi... che è un tool... poco conosciuto... però... posso dire che... anche da live progress... se sei uno sviluppatore... curioso... vediamo se il bot mi aiuta... sì... c'è un canale YouTube... dove ho messo un po' tutte le live... e trovi un po' roberta di tutti i tipi... nel senso che... eh... generalmente riusciamo in una live... a finire un progettino... abbiamo fatto delle app mobile... delle app del desktop... grandi... piccole... c++... java... e un po' di javascript... ottimo... quindi... molto... eh... come dire... si prepara java... quindi tipizzato... quindi... parrocchie di linguaggi tipizzati... un po' di javascript... per... per uscire da questi schemi... ogni tanto... dice... è uscito un libro... per... eh... streammi anche tu... per caso... così... perché se streammi... vengo senz'altro a vedere... che cerco sempre un po' di... di persone... magari su Twitch... che... che streamano... alcune le ho messe nel... nell'info sul canale... giusto per... per... dare un po' di visibilità... o... in realtà... perché sono loro che la danno a me... questo... in un certo senso... però... giusto perché... il mio sogno è... sul classare i gamer... e mettere... avere... portare Twitch a fare sullo sviluppo... invece che gioco... ma no... in realtà non... non è vero... perché guardo anche dei... dei gamer... a volte gioco pure io... quindi... ieri sera mi son fatto delle... stavo facendo un'app un po' ambigua... oddio... ah 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 ah... un'app ambigua... spero non in senso... ehm... ieri sera... ho giocato a Party Animals... quindi un gioco... online... con animaletti pucciosi... che si prendono a cazzotti... quindi... alla fine gioco un po' anch'io ma... ehm... dicevo... ah si è uscito un libro... su... penso un po' a 360 gradi... ma sembra molto... ehm... come dire... è orientato... a... perché mi porta... a... l'admin... visto che non gestisco questo sito... sicuramente c'è qualche... ehm... ah... amazing application... eh... mettiamo un occhietto anche qui... su... le notizie... eccolo qua... un libro su... tecnologie... quelle di TMS... sostanza sì... ma non per forza... eh... questo libro che sembra interessante... anche se... ehm... che spia come usare diversi componenti... un ORM... fare applicazioni web... quindi... è abbastanza... come dire... estensivo... però... ehm... come dire... costicchia... cioè... costicchia eh... un prezzettino un po'... un po' alto... un'introduzione velocissima Delfi... oh... allora... in realtà... ehm... c'è anche un video... che magari metto il link... giusto... ma non per dire... perché non voglia fare... come dire accorciare... poi lo faccio... qui c'è sempre la mia... un webinar... in realtà... che dura un'oretta... quindi... ehm... questo qui... ehm... già partito... una virtual machine... fermo... stai zitto... dico di stare zitto a me stesso... ok... ok... qui... ci sta... Flick mi sa che è di TMS... sì... però quel libro lì... costa veramente un... allora... segnalo questo video... perché è abbastanza... come dire... estensivo... ehm... poi in questo... in questo video qui... ne parlo più approfonditamente... perché abbiamo fatto proprio un webinar apposta... ehm... il buon Delfi... e come molti credono che sia questa roba qui... che è roba un po' vecchia... perché... ti vedi nella live se è completamente diverso... ehm... sono più ciccio... si vede che ho perso... eh... però effettivamente è vero eh... cioè... di dieci mesi fa... minchia... sembra che sono... eh... sono più... più grasso... eh... molto più grasso... sono una roba... eh... ok... quindi... in realtà... eh... come dire... è qualcosa di più simile... eh... a questo... magari c'è un... prendo un sito... ehm... Delfiambarcadero.com... che può essere... ah... sto molto meglio sì... perché... ma anche fisicamente... perché... è una roba... eh... non volevo questo... anche se... ci sta... allora... fondamentalmente è un ambiente di sviluppo... con un linguaggio tipizzato... basato sul classico... eh... ehm... object pascal... quindi... ehm... è un pascal... eh... però ecco... diciamo... a livello di feature... lo affiancherei... lo paragonerei... a qualcosa... stile... eh... c-sharp... quindi... con cui posso fare delle applicazioni... eh... compilate... quindi... non... non è un linguaggio dinamico... come javascript... ma è compilato... o come python... ma è compilato... come c++... quindi... vediamolo... puoi vedere con un c++... come caratteristiche... ehm... però... usando il linguaggio... object pascal... quindi è compilato... hai la gestione della memoria... eh... però... in particolare... Delphi... oltre un linguaggio... ha anche un ambiente di sviluppo... che ti affianca un... un ambiente... rad... cioè un ambiente... con cui tu... fai... eh... drag and drop... di componenti... costruisci... in poco tempo... delle... delle interfacce... visuali... eh... quindi... trascini... pulsanti... trascini... delle parti... che vanno a costruire... un'interfaccia... più componenti... che invece... ti danno delle funzionalità... in questo caso... quindi... è orientato... allo sviluppo rapido... eh... hai a disposizione... una libreria... che si chiama RTL... di runtime... con cui... fai apertura file... lettura di file di testo... binario... socket... chiamate REST... eh... chiamate HTTP... in genere... accesso al database... quindi dentro c'è... di tutto e di più... eh... poi ci sono... per la parte più visuale... due librerie... una è la... VCL... che è una libreria... di... controlli visuali... che fondamentalmente... è un wrapper... su Windows... quindi... specifica per Windows... eh... quindi... la parte... che è indicata... come Windows... ma c'è anche... una libreria... ehm... che si chiama... FireMonkey... che è una libreria... che disegna interfacce... con... scheda grafica... quindi... l'equivalente... lato Flutter... anche perché adesso... utilizza quello... con... con Schia... che è una libreria... di Google... quindi... è... fondamentalmente... grafica 2D... che... riproduce... un'interfaccia... utente... simile a quella... di Windows... volendo... ma anche... totalmente... custom... o... che... mima... le... le interfacce... lo stile tipico... di applicazioni... quindi... e anche Mac... perché c'è anche Mac... per il desktop... e pure Linux... quindi... sia... Linux... sia... righe di comando... terminale... ma anche visuale... perché c'è una libreria... che si chiama... FMX Linux... che ti consente... di fare anche quello... quindi... fondamentalmente... c'è la parte di produttività... il supporto a queste piattaforme... è un po' come Java... a livello di velocità... beh... tendenzialmente... ha delle prestazioni un po' migliori... perché Java... è un bytecode... mentre questo ha proprio... compilatori... nativi... cioè... compila codice macchina... non è... non è bytecode... salvo... salvo... eccezioni... eh... c'è una community edition... che si può scaricare dal sito... d'altro... qui di solito... metto... un comando... delfiambarcadero.com... che è gratuita... eh... a livello di sviluppo... non di running... a livello di sviluppo... eh... eh... che abbiamo fatto... adesso lo lancio... tanto... così... potremmo dargli un'occhiata... eh... dell'ultima versione... ehm... sì... a livello di linguaggio... se scrivi... codice... fondamentalmente... a parte il linguaggio... ehm... è molto simile... ci sono le eccezioni... eh... ci sono classi... diciamo che poi... java è totalmente ad oggetti... è solo ad oggetti... mentre qui puoi scegliere di usare... programmazione funzionale ad oggetti... procedurale... quindi scegli un po' il paradigma... però... diciamo... dal punto di vista dell'interfaccia... nel più... faccio un'applicazione Windows... per la progettazione dell'interfaccia... il giochino è un po' più o meno questo... io metto... vado a scegliere un pulsante... mi prendo un pulsante... mi prendo altri componenti... perché c'è la mia testa qui dietro... quindi c'è questa palette... dove hai la casella di testo... hai dei pulsanti... hai... vari componenti... ce ne sono più di 400... quindi ce n'è veramente una quantità... eh... quindi in doppio click... con drag and drop... hai dei controlli con cui li vai a posizionare... a mettere nella tua... nella tua interfaccina... tipo... voglio fare un'applicazione che scrivo in questa casella... qualcosa... e lo metto in una... in una lista... proprio per fare un esempio... istantaneo... eh... prendo... metto la lista... poi in realtà hai... a disposizione tante opzioni... come il fatto di dire... eh... gestisco... ad esempio... come allinearlo all'interno della maschera... cioè lo metto ancorato a sinistra... al centro... eh... a destra... oppure... gli do un colore di sfondo... scelgo un layout... eh... margini... bordi... quindi cose di questo tipo... quindi... questa è la parte di sviluppo rapido... ehm... ok... quindi... ehm... questa è fondamentalmente la progettazione... in realtà sotto... dietro le quinte... eh... l'ambiente già ti scrive codice... quindi questo non è nulla di più... nulla di meno che una classe... scritta in object Pascal... però fondamentalmente è come in Java... quindi... in Java avrai... classe... nome della classe... qui hai... questo è il nome della classe... eh... classica... eredita dati form... questa è una classe che rappresenta una finestra... form 1... perché poi bisogna dargli il nome... ovviamente significativo... eredita dati form... che è la mia finestra vuota... e questi sono i vari... campi... perché abbiamo aggiunto un pulsante... una casella di testo... è una... è una lista... e poi c'è spazio per il codice... ad esempio... potremmo dire che... quando pigio su questo pulsante... quindi ci faccio un doppio click... e qui vado a gestire il mio click... vado sulla list box 1... vedi che è il completamento del codice... faccio... list box... items... add... quindi vado sugli elementi... e aggiungo un nuovo elemento... eh... dovrebbe essere una stringa... eh... la prendo... da edit1... che è la casella... text... che è la proprietà che contiene il testo... che sta all'interno della casella... e poi faccio... adesso lascio edit1... nomi... come dire un po'... eh... quindi aggiungo... e svuoto la casella edit1... ehm... lancio... non lo sto a salvare... lancio senza debug... lui ti compile il progetto... quasi istantaneamente... è un compilatore tra i più veloci... almeno per windows... eh... e questa è l'applicazione che parte... con la sua finestra... con i suoi controlli... qui c'è la casella di testo... il pulsante... qui c'è la lista... e se io... scrivo qualcosa qua dentro... ciao... pigio il pulsante... vedi che compare... nella lista... e questa si svuota... ciao a... eh... tutti... eccetera... eccetera... e così sviluppo l'interfaccia... l'interfaccia utente... della mia applicazione... ma in realtà... ho... un sacco di componenti... eh... tra cui scegliere... quindi... dei menu... dei pulsanti... checkbox... radio button... ho tutta una parte... legato al... all'accesso al database... quindi... ho dei timer... ho tipo delle... delle dialogue... anche queste sono... per selezione... ed è aggiornato... anche ora... sì... l'ultima versione... è uscita... fine... novembre... no... inizio novembre... adesso... ho perso... comunque... meno di un mese fa... quindi... pochi giorni fa... comunque è stata presentata... da poco... e... sì... viene tenuta aggiornato... e... quindi ha un compilatore... molto... performante... ha un IDE... che consente di... di fare... prototipazione molto rapida... nel senso che... questa è la parte Windows... però... se faccio un'applicazione... come dire... multi device... ho dei template... da cui partire... prendo ad esempio... un master detail... faccio una cartella... cancellami... due... così... e quindi... mi fa questa... questa interfaccina... e qui posso scegliere... dove andare a lanciare... ovvero... ho la compatibilità... fondamentalmente... con... Android... con... Android... 64 bit... iOS... qui chiaramente... ci vuole il Mac... ma questo è un requisito... di Apple... Mac... e... Windows... quindi... in un certo senso... l'applicazione cross platform... quindi... non ho un progetto diverso... ma un unico sorgente... con cui posso andare... su queste piattaforme... quindi potrei dire... lancio su Windows... scelgo Windows... faccio un bel run... vedo la mia applicazione... partire... ok... magari... ecco... questa è un'applicazione... un po' più... per il mobile... quindi... che ho le animazioni... non so se... in streaming si vede... ma... c'è la parte sotto... che diventa grigia... la... e poi... se la lancio... c'è anche Linux... giusto... qui... perché... non ce l'ho... ah... perché non l'ho aggiunto... però... se faccio... ok... ad platform... ci manca Linux... posso aggiungere Linux... non c'è... perché... fondamentalmente... eh beh... ecco... su Linux potremmo lanciarla... perché l'ho già configurato... io su Windows... lancio tipo... Ubuntu... ho il... WSL... sottosistema di... di Windows... che fa girare Linux dentro Windows... che va meglio quasi di Windows... più veloce di Windows... e... e ho... ad esempio... il PA Server... che è un'applicazione... eh... si chiama... ah no... questa è... scusa... eh... cd... eh... cddev... sarà qua sotto... quella è una cartella temp... c'è un tool... che si chiama... PA Server... ok... eh... che... sostanzialmente... fa partire qualcosa... all'interno di Linux... per accettare... il tool gira su Windows... quindi... se io voglio fare... deploy su Linux... eh... o copio l'applicazione... gira anche su Docker... quindi non è un problema... eh... oppure... lancio questo applicativo... che è in ascolto... in modo che... che riceve l'applicazione... la fa eseguire... fa... come dire... da tramite... mi fa da assistente... sulla piattaforma... infatti ci chiama... Platform Assistant... quindi io potrei questo dire... aggiungo come piattaforma Linux... la rendo quella... attiva... la lancio anche in debug... o anche senza debug... tanto... lui si collega qui... al mio... Platform Assistant... eh... ci impiega un po' di più... perché questo compilatore... non è performante... come quello Windows... ma non è così... e qui vedo... comparire questa interfaccina... però se gli diamo un'occhiata... attorno... vediamo che non è proprio... Windows... Windows... ma è... è Linux... tutto sommato... si vede... perché questo è... perfettamente... lo si vede anche... dalla forma del mio cursore... eh... ah... perché scompare... quando faccio lo zoom... che ha l'icona... praticamente... io sto vedendo un'applicazione... grafica... nel server grafico di Linux... che gira... come emulazione... viene emulata da Windows... quindi da Windows... sto passando a Linux... un'applicazione... che essendo mostrata... viene emulata da Windows... eh... ma gira in Linux... e quindi... io sto vedendo... quello che vedrei su Ubuntu... nella mia... cioè... integrato nel mio desktop Windows... sto vedendo però qualcosa... che sta girando su... su Linux... però... ecco... qui... questa è un po' diversa... perché ha... una personalizzazione... per questa piattaforma... eh... probabilmente... se stringo... se faccio un po' di... di elisioni... vedo... eh... l'interfaccia è similare... ma non è proprio necessariamente identica... perché... si adatta alla piattaforma... però le features... sono del tutto... equivalenti... quindi... stesso sorgente... eh... un sacco di... piattaforme... che è una cosa molto carina... qua sotto dovrei vedere... no... lui ne ascolto... però non fa un... non mi fa un debug... quindi... lo chiudo... e ho terminato l'applicazione... nelle live abbiamo fatto diverse... abbiamo fatto dei giochini... abbiamo fatto... perché... soprattutto usando questa libreria... che è cross platform... ma soprattutto è grafica... le cose carine... il fatto di poter fare... ehm... non so... robe di questo tipo... questa ad esempio... l'abbiamo testata... su... su Linux... su Windows... ma anche sul mobile... è una delle prime live... che ho fatto... che non è stato male... il classico onboarding... di applicazioni... l'animazione è integrata... è completamente integrata... e fa questo tipo di lavoro... ovvero ho messo un drag and drop... in realtà ho creato... un'interfaccia... per questa struttura... e l'ho replicata... con immagini diverse... quindi... si può ereditare... anche visualmente... cioè posso creare una maschera... preimpostata... con alcune cose di base... e poi da lì... ereditare... e fare solo le modifiche... che mi interessano... in modo che... se cambio qualcosa nella base... questa modifica si riflette in tutte... cioè... fondamentalmente... la... l'applicazione... e la programmazione di oggetti... è applicata anche la parte visuale... su mobile... esce uguale... c'è una live... sull'onboarding... e... tutta questa roba... a parte qualche componente... questi controlli... fondamentalmente... questo è il codice... che scrive l'IDE... quando io... trascino i componenti... questo è il codice... che ho scritto... cioè... che quando parto... deve partire da una certa tab... e... quando faccio... hardware back... perché su mobile... c'è il tasto indietro... su... su Android... su... sull'Apple... c'è il tasto unico... è diverso... però... se rileva un... back hardware... normalmente... mi chiude l'applicazione... io qui lo intercetto... e gli dico... che... se possiamo andare... allo step precedente... allora... andiamo allo step precedente... questo key a zero... chi viene passato... come riferimento... cioè... mi serve per annullare... la pressione del tasto... cioè... normalmente... su un'applicazione... se schiaccio indietro... torno alla home... in Android... in questo caso... lo intercetto... se posso andare... alla tab precedente... vado indietro... altrimenti... non faccio nulla... quindi... l'effetto che hai... che sei l'ultimo step... se schiacci indietro... vai a quelli precedenti... se arrivi il primo... si chiude l'applicazione... quindi... però... sono le uniche... è l'unico codice... c'è solo questo step... c'è un... cosiddetto frame... cioè c'è il pezzo di interfaccia... che rappresenta... uno step... diciamo... lo step di chiusura... che è un caso particolare... dello step generico... che è fatto così... quindi... io ho fatto la maschera... dello step generico... l'ho ereditata... in uno step... in cui... che è quello finale... dove c'è anche il pulsante di chiusura... che normalmente non c'è... infatti... qui... si vede che... in questa maschera... non c'è nulla... mentre in questa maschera... c'è... il... completa... c'è un pulsante in più... non sono copio in colla... eh... questa è la parte qui sotto... con qualcosa in più... eh... ovvero questo pulsante... quindi... è eredito tutto... poi... cambio delle... cambio delle cose... in corso d'opera... eh... c'è una parte 2D... ma c'è una parte anche 3D... ehm... che abbiamo... forse l'ho anche messo... la... il moving earth... che c'è la... c'è il mondo che si muove... ops... ho preso android... ma non ho... qui su android... posso anche fare debug su... su android... anche sulla parte... ehm... testimoniano che l'abbiamo provato... e... questa applicazione... c'è la cosa interessante... che si vede uguale... su tutte le piattaforme... posso cliccare... si ingrandisce... si... si riduce... ehm... quando faccio click... quindi c'è anche una parte di 3D... ehm... quindi ci sono molte cose interessanti... anche qui... codice... ehm... questo è tutto il codice di questa applicazione... che abbiamo scritto... il resto... lo scrive l'ambiente... e... fondamentalmente... qui... ha scritto... abbiamo messo giù... solo la scena... la... mi chiedo perché non si è conosciuto a sto punto... ehm... quella è una... una buonissima domanda... ehm... nel senso che... effettivamente... ci sono... c'è un po' la tendenza... ehm... soffre un po' come il PHP di... ehm... considerarlo uno strumento vecchio... o quantomeno... c'è un po' una... una... non lo so... una difficoltà... infatti è uno dei motivi per cui... lo porto in live... è anche uno dei motivi per cui... stavamo provando a fare un... una live per parlare di questo... di questo tema... in quanto effettivamente... diciamo che... è un po' di nicchia... e quindi... è arrivato anche... Maurizio... intanto come buoni propositi... Maurizio... ho fatto vedere che ci sono i tuoi video... su... su... su YouTube... forse c'era la pubblicità in corso... che è la pubblicità che rompe le... che non faccio come gli streamer... fate la sub... fate la sub... anche perché dopo... non... 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 non so monetizzarle... quindi non siamo qui per... però effettivamente la pubblicità... non ho un po' le scatole... ehm... dicevo... ben arrivato Maurizio... ho fatto vedere che... come buoni propositi... ho fatto vedere i tuoi nuovi filmati... anzi... forse ho ancora... ho ancora... no... l'ho chiuso prima... facevo vedere che ci sono... sul canale BitTime... le tue sessioni su Git... e su... e su iorm 2... che sono... che sono uscite... quindi... quelli di T-Devcon... di T... dell'ultimo T-Devcon... che sono nel... ehm... quindi c'è un linguaggio moderno... poi anche qui... ehm... non si vede benissimo... però c'era... ehm... ci sono delle interfacce... con degli switch... con... c'è supporto ai temi... c'è un... sì... sono usciti... sono usciti... infatti è strano... che non li hai pubblicizzati... ma... se vai a vedere... ci sono... e... l'ho anche suggerito... più che altro... perché quello su Git... secondo me... vale la pena... ehm... quindi su Windows... ci sono... controlli... per fare le animazioni... ehm... l'indicatore di attività... track bar... scroll bar... c'è supporto ai temi... il look and feel... quindi... lato Windows... diciamo che... non manca nulla... ehm... c'è il supporto cross platform... penso che io non sapevo... eh... io... tengo d'occhio il canale... ogni tanto se esce qualcosa... ehm... c'è... chiaramente anche delle parti di... refactoring... ehm... c'è la documentazione... ehm... XML... ehm... il supporto a quality audit... quindi... vedere se c'è... ciclomatic... complexity... ci sono un po' tutte quelle cose... unit test... ehm... c'è dentro un po' di tutto... l'aggancio ai dati... quindi ci sono un sacco di... database... praticamente tutti... advanced database server... se base... db2... data snap... five bird... interbase... questa è chiaramente la versione poi a pagamento... perché alcuni database... alcuni... maria db test... questo non so dove l'ho preso... c'è Oracle... PostgreSQL... SQLite... ehm... MongoDB... teradata... non ho idea di cosa sia... ma... mi fido... ehm... sono tutti componenti... puoi vedere i dati live... mentre progetti... quindi nelle griglie... vedere già i dati... così puoi... aggiustare un pochino le... le cose visualmente... puoi fare la preview... istantanea a video... la preview... istantanea sul dispositivo... con un'app app apposta... ehm... quindi... lot reload... in questo caso... che molti tool... utilizzano tipo Flutter... a noi non serve... perché noi non scriviamo il codice... vediamo come viene... l'applicazione... ma... progettiamo visualmente l'applicazione... cioè... vediamo come viene... prima... di scrivere il codice... il codice magari... ce lo scrive... l'ambiente... ehm... supporto di vari app store... sia quello di Windows... sia quello di iOS... vari package tool... c'è un supporto anche Bluetooth... c'è un supporto... ha un sacco di roba... che è veramente... id è chiaro... id è scuro... perché c'è chi... chi vuole anche questa roba qui... e poi... che dire... qui abbiamo fatto un po' di demo... applicazioni sia mobile... ma anche web server... perché c'è anche questo... la web server application... la classica REST API... il classico web service... eh... però... c'erano anche... type library... ActiveX... cioè... tecnologie che sono un po' sorpassate... cioè... non vengono più... aggiornate... ma comunque... esistono ancora... in Windows... in Windows... se spegni DCOM... come componente... non funziona più niente... perché comunque... è una parte integrante... poi... ho fatto un demo... ma... vabbè... li lascio poi... vedere il resto del... come dire... del webinar... che comunque... 800 visualizzazioni... non so... neanche male... tutto sommato... eh... quindi... in quel caso... questi sono solo i componenti... integrati nell'ambiente... si... poi ci sono... tante librerie... open source... la parte ad esempio di... web API... su cui abbiamo fatto qualche live... penso che le abbiamo viste un po'... un po' tutte... abbiamo... come dire... ci abbiamo... allora... tre delle più... famose... per fare delle... rest API... al netto di quella integrata... che era server... che ormai è praticamente gratuito... quindi... ci sono... sono arresi... l'hanno messo... sono tutte italiane... di sviluppatori bravi... e quindi... e di... quindi... insomma... gente che a differenza mia... sa quello che fa... eh... per cui... come dire... eh... eh... praticamente... sono tre italiane... sì... e una brasiliana... su cui però... ho visto... ho saputo che c'era un po' di dissing... tra... del film vc... se parliamo di orsa... ma... eh... che ho provato anche quella... comunque è un approccio minimale... diciamo che... in base ai gusti... ce n'è una che... comunque li rispecchia... perché... c'è Mars... che è molto del filaic... eh... si poi... non sono al corrente di dettagli... il muzio però... così mi è stato detto... che hanno... che hanno preso un po' spunto... un po' liberamente... e quindi... ha detto... va bene... perché... dovevo presentare qualcosa... ho detto... magari uso... eh... uso quella... ma... ha detto... meglio usare del film vc... che... qualcuna... quindi c'è Mars... che è molto del filaic... c'è Whirl... che è un bilanciamento... secondo me... molto equilibrato... tra qualcosa di... comunque del filaic... ma anche molto... rispettosa... del lato... rest... quindi... dei dettami... degli standard... c'è del film vc... che anche quella... è molto... cioè... restful... quindi... come le altre... per cui... però... segue un po' come convenzione... un po' più... un approccio simile... a... a... e quindi... eh... dove si può imparare bene... Delphi si trova... se ne parla un po' ovunque... perché comunque... se trovi... anche... libri o documentazione... eh... vecchiotta... è comunque ancora valida... perché... fondamentalmente... sì... sono anche open source... giusto... queste librerie... ehm... è molto aperte... a... a contributi... ehm... anche un po' vecchiotta... addirittura anche componenti vecchiotti... ehm... una delle cose... penso se non forse quella più... interessante di Dave... è la retrocompatibilità... essendo un moto... retrocompatibile... qualunque... ehm... libreria trovi... allora... se serve un... c'è un sito che si chiama... Delphi Books... che però se si sbaglia a scrivere... no... una volta ho scritto bene... quindi... dove dentro... ci sono... ci sono anche gli ultimi... ce ne sono... ci sono diversi libri... alcuni gratuiti... ehm... io ad esempio... ne ho scritto uno... io stesso... però... è in inglese... però è gratuito... che... lo trovi su... il sito di SingFusion... che è... delphi... Saccintli... hi Patrick... Merry Christmas... ehm... Delphi Saccintli... che... ehm... gratuito... come... at the good moment... ehm... really... ehm... yes... because... ehm... this... this site... ehm... ehm... curated... managed... by... Patrick... Premartene... mi c'è... l'embarcadero MVP... e delphi MVP... qui trovate... dici in italiano... ehm... perché... il mio inglese fa schifo... ehm... ehm... libri gratuiti... questo è... ehm... è abbastanza comodo... perché... ehm... ci sono... è un centinaio di pagine... ed è proprio progettato... per dare... ehm... come dire... un'infarinatura di... quello che è delphi... come fare le prime applicazioni... cioè... dentro c'è proprio scritto... una prima occhiata... prima applicazione... funzionalità del leader... linguaggio... ehm... ehm... fare delle applicazioni reali... e cross platform... e fine... cioè... proprio fatto apposta... perché è in... Ugly... but it will change soon... the site... ehm... do you plan... to... do... rework... revamp... of the site... e quindi... diciamo... per quelli che... che arrivano... così... abbastanza... quindi... abbastanza... è gratuito... basta registrarsi al sito... e quindi... ha qualche annetto... perché è del 2015... però quello che c'è sopra... vale... anche per le versioni più recenti di... di Delphi... perché... Delphi porta sempre delle novità... anche dal punto di vista visuale... però... qualunque progetto fatto con una versione anche molto vecchia... addirittura... le prime... parliamo di alcune versioni che hanno... più di vent'anni... ehm... sono... come dire... perfettamente... apribili e compilabili anche con le versioni più recenti... questo non vuol dire che l'applicazione rimane vecchia... cioè... io ho il supporto ai temi... ho un'applicazione... vecchissima... che vado a importare... da una... versione di Delphi... come dire... I've chosen the new Delphi book template... I've implemented the repository... ok... so we are... we are waiting for that... ehm... dicevo... facciamo... ops... aspetta che ho... ho... cioè io magari ho un'applicazione molto standard... fatta con pochi controlli... un pulsante... ehm... una... una casella di testo... cioè... per citare un po' la checkbox... e quelle... queste cose qui... ok... ehm... voglio dargli... magari l'ho importato da un progetto vecchio... in Delphi 7... e lo riesco ad aprire... però... ecco... una versione... magari aggiornata di Delphi... vado nelle opzioni e dico... siccome voglio renderla un pochino più interessante... mi faccio il mio tema... ehm... me lo metto... slate... lo metto in grigio... oppure... ehm... non mi piace... lo voglio... lo voglio drasticamente diverso... prendiamo una roba... questo che... non mi ricordo se... ecco... qui ci sono un po' tutte le... questo forse è rosso... no... questo è scuro... però va bene... prendiamo questo... ehm... non l'ho selezionato... cioè... l'ho abilitato... ma forse non l'ho selezionato come default... ehm... però vabbè... conta il... tiè... ok... ho fatto l'applicazione nuova... però... con... uno stile... ehm... come dire... diverso... ehm... ehm... glò... quindi... fatta un pochino... con una grafica un po' diversa... ci sono... una marea di temi... cioè... questo per dirne una... cioè... l'ambiente si arricchisce... io porto... delle... applicazioni... magari... da una versione vecchia... però... siccome... magari perché voglio fare un refactoring... sono delle nuove feature nel linguaggio... quindi... le voglio sfruttare... però siccome... spesso... a chi... il reparto commerciale... gli piace... come dire... vedere... cambiano il controllo di sistema... sì... questa è sempre un'applicazione Windows... in questo caso... nativa... questo è un pulsante... nativo di Windows... non so se ho il Win... DBG... o quel tool... ma mi ricordo se è questo... che fa il... Attach to a process... come si chiama... project... project... dovrei... dovrei pescarlo... come si chiama... project... perché non hanno mai messo una... una... project 1... ok... questo qui... e questo è sempre un... come dire... non so come si faccia a vedere... adesso mi ha bloccato l'applicazione... volevo vedere... qui del... qualche comando... o qualcosa del genere... però... non mi fa... non mi fa interoperare... però... diciamo che... fidatevi... è comunque un'applicazione... nativa... c'è una... una parte di disegno... di supporto ai temi... che la va a disegnare con... con... un'interfaccia grafica... un gradiente... per renderla un pochino più... tra l'altro i temi si possono integrare... non c'è niente da distribuire... a... design time... c'è quello che vediamo... tra l'altro c'è anche la barra del titolo che... compare in modo diverso... c'è anche un componente... un pannello per... queste cose un po' si... ci si esercita... vedendo un po' gli esempi... che sono... che sono comunque inclusi... scaricabili anche da github... io penso di averne scaricato un po'... perché ogni tanto... butto un occhio... su queste cose... ma giusto per... sample... cosa potremmo vedere... vcl... title bar... c'è un pannello per la title bar... quindi questi sono già... come dire... di serie... per fare un po' di... e questo è un componente interessante... perché fa vedere... uno dei componenti... che consente di customizzare... la barra del titolo... dell'applicazione... quindi io... do un run... lui compila in due secondi... parte l'applicazione... e io mi vedo... i pulsantini qui... che possono essere cliccati... quindi questa la posso trascinare... cliccando su qualunque... il menu è integrato... è tutto... è tutto colorato... vedi che ci sono... questo è uno degli ultimi componenti... per dire che hanno aggiunto... però è sempre... come dire... Windows... cioè questo è... vedi che... tira fuori... la parte di... massimizza... c'è il tooltip... questo è un... pulsante custom... questi sono altri pulsanti custom... che sono uguali a questi... poi qua si può cambiare... il colore... fa la rossa... fa vedere un po'... diciamo... le varie... varianti... i pulsanti... se non hanno lo stesso colore... non è proprio il massimo... però... vabbè... questo è chiaramente un demo... un paint event... ah... perfetto... posso intercettare anche la... il fatto di... l'evento di disegno... in modo che io mi inserisco... e tramite un canvas... io disegno... e quello che disegno... lo vedo... lo vedo qui... quindi... quello che non riesco a mettere... come componenti... lo disegno... proprio... a mano... quindi... qui forse... c'è un po' di codice in più... ma non mi aspetti di trovarne... poi più di tanto... eh... sì... cioè... quando cambi i colori... lui va... a mettere... diciamo... eh... sulla checkbox... se clicco sulla checkbox... va a abilitare o disabilitare... delle opzioni... su questa title bar... in base allo stato della spunta... quindi... eh... fanno la conferenza online... aspetta che mi sono perso qualche messaggio... eh... se l'intera considera anche una delle conferenze che stanno in Italia... di solito verso i primi di giugno... ok... quindi... sì... beh... per me non è un'attrattiva... però le conferenze sono interessanti... al netto che... si parla ovviamente di Delfi... ma secondo me... eh... per quanto sul... sul gruppo... di Delfi Club Italia... qualcuno abbia detto che ci sono delle facce brutte da vedere... eh... qualcuno l'ha detto per scherzo... qualcun altro lo intendeva seriamente... quindi... eh... però... comunque... eh... secondo me... soprattutto quelle... a Piacenza... o in giro per l'Italia... sono interessanti... anche perché si parla spesso poi di tecnologie... eh... correlate... mi viene in mente l'ultimo del Fidei che abbiamo fatto... che è a Padova... quest'inverno... eh... tra l'altro non ho messo il materiale... spero di... ancora no? no... io voglio scaricare le slide di questa roba... eh... allora... qualcuno l'abbiamo fatto online in tempi di covid... e si trova... cercando del Fidei... eh... si trova... si trova abbastanza facilmente... del Fidei... in realtà poi ce n'è qualcuno... 2020... no... qui ci sono pure io... eh... ci sono un sacco di... eh... sul sito di... sul canale di Minitech Italia... eh... GraphQL... si parla di Virtual UI... Messaging... Prometheus Grafana... si parla di un sacco di cose... eh... questi sono... hanno già due anni come filmati però... eh... XJS però... diciamo che alcune cose... API Calendar... Google Meet... creare una CLI... eh... Unit Test... si parla di... principi solid... si parla in realtà poi di tante cose che... fondamentalmente in realtà sono applicabili... anche del Fidei Intorni... giusto... che è un altro sito... di intorni... c'è il blog... però... cioè a cercare bene... ce ne sono poi tanti... eh... andrebbero un pochino forse aggregate... eh... ecco... del Fidei Intorni è una comunità... è una comunità italiana... con un sacco di... eh... di robine... abbiamo fatto dei webinar... ci sono gli eventi... adesso forse... ehm... qui ci sono le due edizioni... dicevo... a parte gente pazza... però a volte si parla anche di... di tanto altro... e quindi... secondo me... come tutte le conferenze... quando si... si... comunque... perché... il problema qual è? è che... di Delfi non c'è mai... tante cose nuove da dire... salvo le versioni più recenti... che ognuno poi si studia... un po' perché... c'è il keynote... ok... abbiamo aggiunto questo e quello... però... però... è interessante il fatto che comunque... ci si possa integrare con... con tante cose... diverse... quindi... ehm... per dire... se prendiamo l'ultima... conferenza... ecco... qui si vede un po'... c'è una bella foto... che fa vedere anche quanto si... ecco... ci sono io... un po' di... un po' di gente simpatica che... dopo aver bevuto... i webinar sul canale di Andrea Magni... giusto e vero? no... vabbè... cercando ce ne trovano tante... ecco... come diceva... ehm... un post che vedevamo prima... c'è un po' il discorso di... ehm... canali curati... o canali con delle copertine... cioè un po' di... come dire... la cosa... la parte che manca è un po' il marketing... ecco... però... da quel punto di vista... e... ad esempio... nell'ultimo... IT DevCon... che è una conferenza a Delphi... che si tiene a Roma... ehm... che è stata fatta a novembre... ottobre... ottobre forse... si è parlato di clean architecture... di test... di API... di integrare delle applicazioni web con AlpineJS... quindi qui... come dire... il server lo puoi fare in Delphi... ma... si è parlato di roba... ci sono delle live anche su BookCaster Game Engine... sul... sul mio canale... ma questo lo riporterò... perché... comunque... sta facendo delle cose molto interessanti... ehm... c'è un Game Engine... che... buona notte... buona notte... e... dicevamo... no... questa conferenza si è parlato di Markdown... si è parlato di... eh... Castle Game Engine... cioè... Castle Engine... c'è un Game Engine... fatto interamente con... con... con Delphi... grazie per... thanks for... for your support... my English is... very very bad... I'm good at listening... to... English people... but not speaking... Castle Game Engine... è un... game engine... infatti è finito... interessante... per creare dei giochi... io ho fatto una live... con un'introduzione... per vedere un pochino... eh... si integra anche con Blender... si integra con un sacco di... ma... English too... bene... allora andiamo a farci un corso assieme... che... eh... ci sono... effetti grafici... sono... poi supporta... è anche cross platform... supporta... oltre a Delphi... anche Lazarus... Lazarus è un tool... molto simile a Delphi... che esiste per... Free Pascal Compiler... che è un compilatore... gratuito... io preferisco Delphi... perché... soprattutto ho provato... con Castle Game... eh... è molto... molto... eh no... si... io lo dicevo... perché... cioè... l'inglese... sono anche bravo... però... ho parlato... non mi vengono le parole... con... ho parlato due secondi... ad esempio... col creatore... che era in conferenza... di questo Game Engine... che mi ha chiesto... visto che l'ho provato... come l'avevo trovato... nel tentativo di... esprimermi con lui... in inglese... ma senza che dovesse aspettare... una mezz'ora... mi è venuto a sudare la schiena... cioè... ho avuto i sudori... dalla fatica che ho fatto... però... risolverò anche questo problema... perché... giustamente... ci sta... però... sul lato tecnico... me la cavicchio anche... ma... per altre cose... quando devo... mettere assieme... anche questo open source... ci sono degli esempi... con le due macchine... che fanno... come dire... che gareggiano tra loro... giusto come implementare cose... ovviamente molto rudimentali... perché dovrebbe spiegare la fisica... dovrebbe spiegare... e... praticamente... grazie a questo ambiente... si... ci mettono giù gli elementi... si... mette la fisica... è un po' come un'alternativa... molto... molto... chiaramente più modesta... anche se non banale... a Unity... che però... genera sotto... dietro le quinte... dei file... che si possono compilare... o con... con... Free Pascal... Compiler... FPC... oppure... si... si... Michael Camburelis... è... è un personaggio veramente... perché... è un... e... quindi... si è parlato... anche di... di giochi... quindi... in realtà era molto interessante... il fatto di poter usare... quell'engine... per del 3D... anche dentro applicazioni business... perché... ha dei componenti... per poter prendere il gioco... e metterlo dentro una finestra... di un'applicazione fatta con Delphi... insomma... alla fine ci sono... un sacco di... si è parlato di Docker... in due punti... io ho parlato di... usare l'API di Twitch con Delphi... facendo streaming su Delphi... quindi... siamo in casa... diciamo... questa non è ancora stata pubblicata... a parte che questa è quella più nuova... quindi è un'altra cosa... però... sempre sul mio... canale YouTube... di cui metto il link... c'è una sezione webinar... dove c'è un webinar... dove fondamentalmente... ho parlato sempre di questa cosa... cioè... quindi... l'ho riproposto... e... migrazioni database... con Flyway... quindi... i database li usiamo tutti... però... ecco... anche... qualcuno che non conosce Delphi... da questa sessione... che poi era molto interessante... dovevamo farci una... una live... propositi per il nuovo anno... giusto per venire in argomento... chi lo sa... adesso mi sposto qui... così è più... e... vabbè... qui c'è... c'è la foto del buon... del buon Michael Camburelis... che... non so se... si riesce a vedere... ah no... giusto... ho messo... ho cambiato... è un pazzo... è veramente un pazzo... in senso buono... ma è un pazzo... ah... comunque... è simpaticissimo... giovanissimo... e... onestamente... cioè... un tool... un qualcosa per fare... già... un engine... deve essere una roba complicata... fatta... con quel linguaggio... cross platform... cross device... che va... pure sulle console... ha provato anche su un... su un raspberry... o su qualcosa di veramente... e... che si integra anche nell'applicazione... ci fa l'applicazione di business... cioè... lui ha fatto proprio la torta... il ripieno... la celiagina... cioè... capisco come... cavolo sia... veramente... ti lascia la bocca aperta... infatti... lo volevo... riportare... per vedere le ultime cose... che ha messo... e anche... vedere... magari... se fare un gioco... non dico... professionale... perché io faccio schifo... in grafiche... e tante altre cose... però magari... può essere... una cosa interessante... da vedere... per... come dire... capire... quanto è facile... ottenere certe... funzionalità... perché alla fine... quando l'ho provato io... avevo un po' di difficoltà... nel rendering... perché c'era OBS... che... adesso sto rifacendo... un po' la grafica... anche del canale... quindi... gli ho fatto un po' di... mi sono fatto un po' di... mi sono fatto un disegnino... su carta... di come dovrebbe venire... di come metter giù... un paio di... di automazione... devo cambiare... il programma che uso... per... per i suoni... e quindi... tipo... per lanciare dei comandi... ma allora avete avuto... un gran colpo di culo... come siete approdati al top... al massimo dei massimi... per qualche meme... e quindi... come dire... ci sto un po' lavorando... però... sempre poi dal punto di vista... amatoriale... però ecco... mi piacerebbe... nuovo anno... che cosa fare? allora intanto abbiamo... la famosa live... che stiamo organizzando... per parlare un po' di Delphi... a 360 gradi... riguardo a cosa... piacerebbe avere nello strumento... ma anche... come si potrebbe... lo si potrebbe divulgare... ah... c'è il... c'è il cooldown... non mi ricordo... quanto l'avevo impostato... però... ci sono... ci sono altri suoni... volendo... e... c'è anche il comando suoni... penso... e... altra cosa... sarebbe interessante... fare una sorta di... corso... amici... corso step by step... amici... questo è per l'add... amici... che tempo fa... melegnano... ah... poi mi dice... ad in progress... ma forse vedete lo stesso... magari... non la fa più la pubblicità... quindi... sì... beh... i suoni sono... sono appunto... per divertirci... perché l'idea sarebbe... sempre fare live di programmazione... però... un po'... un po' cazzeggiando... ecco... stasera è il massimo... della cazzeggiata... però... ehm... ah... bellissimo... eh... ti rubo l'idea... non so quale delle tante... però... ma qui infatti... tu streammi... non ho capito... adesso vado a vedere... se sono curioso... perché... di solito... chi streama... faccio pure... gli... shout... shout out... anche volentieri... perché... streamare... streaming... c'è... gaming... però c'è anche uno sviluppo... c'è anche una parte di sviluppo... attenzione... quindi... faccio gaming... dev... quindi... forse me l'avevi detto anche prima... e non ho... mi ha inviato lo shout... eh... Patrick... è vero... non l'ho fatto neanche a Patrick... allora... adesso facciamo... perché ho scritto una boiata... prima ho messo il... sì... Patrick... oddio... adesso sbaglio... lo scrivo a mano... sicuramente sbaglierò a fare... no... ci ho beccato perché... mi dà la categoria giusta... quindi... beh ok... le prossime... adesso metto il... il follow così... cinque giorni fa... quindi... beh... vengo a seguire... così... così... quando sarai live... vengo a vedere... anche... il gaming... così... smetto anche di giocare... a... a... la spasmofobia... la spasmofobia... l'età è un sacco... che non gioco... quindi... eh... dove proprio conosce... quel Michael Kamburelis... quindi... sì... così... vengo... in realtà... non sono un player di... di... di fortuna... ma io seguo degli streamer... un po' pazzi... anche quindi... ehm... che stavamo dicendo... ah sì... no... l'ideale sarebbe portare... qualche live... introduttiva su Delphi... perché... mi sarebbe piaciuto... fare una sorta di... corso base... per step... però so già che... se mi metto a fare della roba per... ehm... per Youtube... o cose del genere... poi dopo divento perfezionista... e non ne saltano più fuori... le live diventano un po' lunghe... però... è vero che... ehm... come dire... ehm... ci si... cioè... comunque... prendendo un argomento da sviscerare... si fa presto a... ma... sarebbe bello farne anche più di una settimana... perché... ci sono alcune persone che magari sono più comodi in altri orari... e... adesso ne avevo messa qualcuna anche il pomeriggio... anche nel weekend... perché... quando... non c'è l'amorosa... magari ne approfitto... ecco... chiaramente se ho l'amorosa non mi metto a... a streamare... perché altrimenti dopo devo scegliere tra... ehm... rimanere singolo... il canale... quindi diventa... diventa un problema... però... a parte questo... no... quindi provare altre formule... è che diventa... effettivamente un po' impegnativo... perché c'è anche il lavoro... e tutto il resto... mi piacerebbe anche vedere alcune cose legate allo sviluppo web... ehm... su framework... in realtà... a volte li abbiamo portati qualcosa su React... però... diciamo che siamo sempre partiti un po' da zero... poi dopo l'ho lasciato un po' lì... io uso per esempio il plurale... ma tanto sono io che decido i programmi... quindi... ehm... la colpa è mia... però... ma più che altro... perché so che ci sono persone che sono più ferrate... ne parlano in maniera più... più specifica... però... come dire... siccome chi sviluppa in delfi fa anche web API... e ha bisogno del front-end... può essere utile anche... come dire... vedere queste cose... sarebbe interessante... e lì ci sto lavorando... mettere in piedi una piattaforma... tale per cui... si riesca a fare qualche live... condivisa anche con qualche altra persona... che magari presenta un tool di sviluppo... o spiega qualcosa... mi viene in mente... ehm... magari appunto... come abbiamo fatto con una live di iorm... dico con Shades... che adesso... abbrevio il nick... ma perché... anche a me mi chiamano... in altri canali... mi chiamano compila... e anzi... quando... giochiamo... e sto per uccidere qualcuno... in game ovviamente... non è... nella vita vera... assolutamente... di solito l'urlo è... compila... urlano questo... e quindi l'ho preso... che c'è... che è anche comodo... come nick... quindi Shades of Matti diventa la Shades... e... che stavo dicendo... ah... abbiamo fatto una live... non mi ricordo... ormai l'anno scorso... forse... non era quest'anno... o inizio di quest'anno... non mi ricordo... dove andare a controllare... che è durata fino ad un orario assurdo... oltre l'una... iniziando alle... nove e mezza... e... c'era ancora... un tot di gente... ancora collegata... a una certa ora... che pregava di smetterla... perché... e siccome erano interessati... continuavano a guardare... non riuscivano a scollegarsi... e quindi rimanevano incollati... però... siccome volevano andare a letto... non ce la facevano più... poi... in qualche conferenza... qualcuno mi ha detto che... quando mi vede in live... sulla tv... la moglie dice... ho ancora quel tizio lì... che sarei poi io... probabilmente sono anche cause di... come dire... problematiche... casalinghe... di persone che... che seguono le live di programmazione... siccome sono abbastanza... assiduo al giovedì... almeno fino ad oggi... sì... in quella live ci siamo fatti un po' prendere la mano... però effettivamente c'erano un sacco di cose carine da sperimentare... l'una e mezza eravamo ancora... come dire... eravamo ancora on fire... come direbbero appunto i gamer... stavamo traiardando... come dicono loro... cioè... ci stavamo... impegnando particolarmente... e... era interessante... però qualcuno non ce la faceva più... e quindi ha detto... bravi... però... basta... piantatela... alla fine... l'abbiamo dovuto lasciare lì... e... però... e quella era solo una beta... di quello che avevamo fatto... il demo... e quindi... quella era venuta bene... quindi... sarebbe interessante farne... adesso la prima... che proveremo a fare... è questa di... come dire... vediamo il meglio di Delphi... vedremo di farla... proprio... come dire... corale... con più persone... vediamo cosa ci salta fuori... che è bello di avere anche poi un canale personalizzato... con... come dire... non... non facciamo cose bannabili... ecco... da quel punto di vista... ma più caldo... perché mi... mi spiacerebbe perdere il canale... però... come dire... per il resto... non è che abbia particolari problemi... da questo punto di vista... quindi... e... come dire... eh... l'ideale sarebbe vedere un po' anche di... di queste cose qui... eh... quindi un... un po' di tutorial... però magari un pochino improvvisati... perché... eh... non... puoi fare anche argomenti a puntate... sì... quello ci ho pensato... molti mi hanno dato anche... creare un progetto... eh... perché molti che fanno coding... su Twitch... portano avanti dei progetti... fanno proprio questo tipo di lavoro... eh... io ho sempre pensato che fossero... come dire... ehm... un po' noiosi... perché magari ecco... a chi magari vede la cosa e non gli interessa... se per un mese porto quella roba... alla fine mi... cioè magari uno dice... non seguo per un po'... eh... a chi interessa magari invece segue più assiduamente... però... eh... ho sempre pensato un po' che fossero... perché molti si mettono a scrivere codice in live... cioè... in realtà l'obiettivo è scrivere il codice... la live fa un po' da compagnia ecco... da questo punto di vista... quindi... alla fine... può essere un'idea magari se riesco a mettere... magari più... più live... all'interno della settimana... perché... pochino volevo anche coltivarlo questo canale... da questo punto di vista... anche perché vedo che le cose che mi sono studiato qui... per... vederle in live insieme a chi c'era... quelle volte che c'era qualcuno... ehm... mi è stato molto utile perché su alcuni argomenti... che mi sono stati chiesti anche di recente... così... consulenze varie... ehm... potevo dire... sì... si può fare perché le avevo provate... all'interno di una live... senza averne avuta necessità... quindi... anche da quel punto di vista... poi sarebbe bello fare qualche poll... non so... qualcosa del genere per dire... ehm... quello magari potrebbe essere un argomento che... aggiungo corollario di... della live... perché servirebbe qualche persona collegata... in modo che... avendo diverse persone... prima di tutto... vengono chiaramente a conoscenza del canale... seguendo qualcosa di più interessante... e magari a quel punto... cioè si fa anche un... un sondaggio sul quale gli argomenti potrebbero essere interessanti... se vedo che chiaramente in una live... invece che poche persone... ce ne sono già... ehm... più di dieci... o anche qualcuno di più... e si riesce a vedere un po' di... a prendere un po' di pareri... vedo che ci sono... sono molti che puntano su una direzione... magari poi... ehm... si votano poi... non ci sono mai come le altre volte... magari può essere interessante... però... so che c'è chi le vede anche indifferita... quindi... come dire... lì... non ho bene un quadro del... dell'audience... a volte arrivano delle statistiche... c'è quella live dove siamo in... in 15... quella dove siamo in 3... ci sono dei filmati su YouTube... tra l'altro... c'è quello del meme che... adesso io... vorrei far vedere questa cosa... perché... grida un po' lo scandalo... però... sul mio... esimio modesto canale YouTube... io pubblico tutte le... le live... a parte io che... che me la vedo col gatto... però... su questo... trovate anche... questo è il mio aiutante... che al momento... eh... non so se riesco a farvi vedere... perché dovrei prendere la... la telecamera... ma... sta dormendo qui... sul divano... e quindi... eh... cosa stavo dicendo... sì... ho gli ultimi video... se vado in ordine cronologico... qualche giorno fa... ho fatto un meme... allora... l'ultimo video... abbiamo parlato di API... di Spotify... che... mi sembrava un argomento... abbastanza interessante... però... addirittura... ho avuto più visualizzazioni... l'Advent of Code... e ne ho fatto uno solo... anche perché ho visto... che diventava troppo lungo... probabilmente perché... c'è l'Advent of Code... cercato come parola chiave... questo è il discorso... che facevo all'inizio... Delphi First Look... dove c'è anche la presentazione ufficiale... però... 304... con parole chiave... anche proprio Delphi... boh... quindi... un recap sulla conferenza... 87... quindi pochissime... il meme... per ricordare che Delphi... non è nulla da invidiare... dati tutti... più blasonati... 17... quasi 18.000 visualizzazioni... dico... boh... è vero che questo è corto... è... secondo me anche carino... uno dei meme... che girano più... fermamente in giro... che avete già visto... che ho rifatto in chiave... questo ha 18.000... quasi 18.000... ovviamente è stupidotto... ma qui se ne vede un altro... perché ce ne sono... è stato ripreso... vabbè... alcuni sono l'originale... ovviamente... però è stato ripreso... l'ho visto girare parecchio e... non ho capito... come mai questo ha... ha avuto tutte queste visualizzazioni... però... ce ne sono alcuni... 622... passiamo da 70... 600... a 17.000... a 10... boh... che ne so... figa... qui sono bello... sono bello paffuto... comunque... un anno fa... l'RTTI... abbiamo parlato di... Schia... ecco questo è piaciuto molto... c'è quello... su Python... con Delphi... il middleware... ecco... qui c'è la live... un anno fa... era... il demo maledetto... con IORM... che è durata... 3 ore... 57 di live... quindi dalle 9 e mezza... fino a... abbiamo lavorato con... già GPT... le novità di Delphi... ecco... qui c'è la versione precedente... comunque... bisogna dire che... in un paio d'anni... forse anche qualcosa in più... di video ne abbiamo fatti... ci sono 90 video... quindi 90 live... su veramente qualunque cosa... applicazioni 3D... cross platform... react... mi ha fatto l'API... con MVC... con ORS... i pattern... circuit breaker... usare... bluetooth... retry pattern... qui aveva veramente una faccia... che non stava nel... non stava nel schermo... c'ha GPT... abbiamo fatto la tombola... abbiamo fatto... il gioco cacca... abbiamo fatto un po' di C Sharp... un po' di... corso base con Python... che anche qui... vedi che non sono... proprio... poche visualizzazioni... si vede che... nonostante sia molto ricercato... poi c'era... Skia... abbiamo fatto un po' di... interfaccia utente... come dire... qui c'è... sempre una grafica diversa... quindi... ho seminato parecchie... il gioco... indovina il VIP... dove abbiamo... facevamo un gioco live... cioè come fare un'applicazione per... l'API Android... per i cocktail... far la query con il cocktail... questa ce l'ha ancora... metodologia TDD... con un gioco... abbiamo fatto... clean code... gli overlay... per le live su Twitch... abbiamo usato il tethering... abbiamo usato... Delfin VC... user onboarding... applicazioni... HD... cioè questo per dire che... una delle caratteristiche interessanti... anche di... di Delfid... che emerge soprattutto... da questa varietà... è il fatto dell'essere appunto... molto... general purpose... e quindi... si possono fare un sacco di... di cose... non... non tutto... alcune cose... magari altri linguaggi... sono... come dire... più... magari più indicati... per certi tipi di utilizzo... però... in generale... secondo me... l'abbiamo... abbiamo sviscerato parecchio... e questo... dà un'idea proprio del... quando qualcuno chiede... ok... ma che... che robina si può fare o meno... di solito... come dire... ho la testimonianza... e quindi uno dice... eh ma... Delfi... è bugato... mi si blocca sempre... gli dico... è un prodotto... è colpa di Delfi... e gli dico... guarda... tu vai a vedere... ci abbiamo... più di 200 ore... più di 200... anzi... non ore... ma... sì... ora... di... di live... secondo me... nel pannello... mi dovrebbe dare questa indicazione... con... come dire... dove abbiamo fatto... di tutto e di più... e di blocchi... non se ne vedono... anzi... l'unica live... in cui c'è stato un problemino... particolare... era quella con C-Sharp... in Viso Studio... che ho fatto l'interfaccia... vado a salvare... chiudo e riapro... e si è perso tutto... quindi... era una delle prime release... di Viso Studio 2022... con l'applicazione Windows Phone... questo ha dimostrato... che i concorrenti... hanno anche loro i loro problemi... e quindi... come dire... non tutti... non tutti sono perfetti... quindi questo... come primo principio... e quindi... e le problematiche... ce le hanno... diciamo... anche... anche altre persone... quindi... da questo punto di vista... detto questo... quindi... questo è un po'... dai... per il prossimo anno... vedremo un pochino... che cosa portare... chiaramente... questa live... era a fare un po' il sunto... io sono... comunque... come dire... abbastanza soddisfatto... del... come va il canale... perché non ci sono tanti follower... però... quei pochi che ci sono... sono... in un certo senso... come dire... organici... cioè... non fatti di carbonio... inteso... inteso... che sono... sono reali... perché non sto a fare... intanto non monetizzo... non mi metto a... a chiedere... o incentivare abbonamenti... perché poi... non voglio farlo... per pagamento... ma per... per diletto... quindi se c'è una sera... dove... effettivamente... magari qualche... problemino... contrattempo... essendoci sempre il lavoro... purtroppo... devo... devo saltarla... per rimanere aggiornati... sulle live... io come sempre... metto il link... al canale telegram... oppure... magari facevo prima... a... il mio sito... che sto un attimo... rifacendo con Astro... lo sto un attimo rivedendo... quindi... anche lì sto studiando... un pochino di cosine... dove c'è anche un elenco... delle live... con una descrizione... anche il materiale scaricabile... perché la cosa bellina... è che in tutte queste live... avendo... diciamo... creato un progetto... alla fine... sono state tutte... cioè... catalogate... in modo da avere un link... per scaricarsi magari... il sorgente... di quello che è stato fatto... non è su... GitHub... perché non deve essere mantenuto... cioè... su... come dire... 90 live... non vado singolarmente... ad aggiornare quei progetti... perché sono dei prototipi... però ecco... se magari... una volta di queste... capita di dover aver bisogno... quello lo sto un attimo migliorando... perché appunto... non sono... facilmente ricercabili... senza usare... almeno di non usare Google... quindi... viene più comodo... in un certo senso... sarebbe più comodo... avere delle schede... vere e proprie... delle puntate... in modo da poter... come dire... anche cercare... per argomento... e alla fine... arrivare a scaricarsi... il progetto che è stato fatto... poi magari... la versione di DeFi è cambiata... però non si fa la migrazione... prende spunto... cioè... è un po' come... renderlo disponibile... per la community... ecco... questo è un po' l'intento... al momento... fatto un po' al minimo indispensabile... però ci sarebbe da... come dire... farlo un pochino... un pochino meglio... da questo punto di vista... detto... questo... aiuto... aperto Twitch... involontariamente... ma... che stanno a fare? no... volevo vedere se c'era poi... un canalino per fare il ride... ma... se c'era qualcuno che stava magari... facendo... software development... anche se... come dire... più unico che raro... al momento... in italiano... sono solo io... dobbiamo incrementare... questo... come dire... il numero... o magari c'è qualcuno... che non usa... codando... e papeando... questo... o è brasiliano... oppure... bisogna incrementare... il numero di sviluppatori... che streamano su Twitch... giusto per... adesso do un'occhiata... non si sa mai... no... è portoghese... quindi... se parliamo in dialetto... forse capisce... ma... se non sai dove andare... ho io un canale... i pagliacci fanno scacchi... i pagliacci... è un prometto... molto bene... benvenuto... ho avuto un altro vision... quindi... sta in background... e poi... spunta... al momento del ride... adesso basta... lo metterò... a pagamento... ma... non sono... quelle in cui abbiamo fatto... un ride... sì... che si era un po' scoglionato... una volta... perché quando abbiamo fatto... il ride... era concentrato... e... una volta abbiamo fatto il ride... una persona che faceva... gli scacchi... secondo me... secondo me... era sempre lui... e... si era... solito... io scherzavo... e ovviamente... cioè... fidati... vai vai... ma... guardavo un attimo... perché... solito... cerco un po' ad andare... nei miei aficionados... da quelli che seguo... in realtà... guardavo se c'era qualcuno... che... che sviluppa... o... o meno... ma vedo che... anche se... in realtà... ci sarebbe... qualcuno... a cui non vado da un bel po' più che altro... ma anche a vedere... la live in sé... quindi... che... non ho idea di cosa stia combinando... perché vedo una cosa strana... quindi dopo... dopo andrò a vedere... quindi... no... comunque si... si scherzava... anche perché poi penso che tutti... tutti gli altri... fondamentalmente... migliaia... oddio... che cosa sta combinando... non lo so... dopo vado a vedere... che... è un po' strana... poi forse non avranno neanche... no chat interaction... ok... non so cosa stiamo facendo... ma sarei curioso di... di... stanno facendo musica con... con una MIGA 500... quindi... la cosa mi intriga... comunque... ehm... cosa volevo dire... ehm... penso di averne conosciuti molti... in base a suggerimenti... quindi... di solito... seguo i suggerimenti... anche perché... poi non mi ricordo più... chi mi ha mandato da chi... però molti... anche dei gamer... che seguo... li seguo fondamentalmente... perché ci sono capitato per caso... o sono... sono arrivati per caso... quindi... eh... niente... diciamo che di buoni propositi... si è parlato poco... però... come dire... i buoni propositi sono... come si dice... continuare il lavoro fatto fino a qui... e tanto poi... per suggerimenti e altre cose... cioè... di chi è nato da chi... infatti... non vedo... da un po'... il buon... il buon... il buon few bits... quindi adesso... se lo beccherò... una di queste volte... andrò senz'altro a fare un... un mega raidone... e... al netto di questo... no... quindi... come dire... un problema con la memoria flash di pretene... oppure io... prima mi scordo... mi scordo i discorsi da un momento all'altro... per cui... e... detto questo... quindi... continuare il... quello che ho fatto fino ad ora... cioè... è modesto... però magari trovando... qualche argomento un po' più accattivante... tipo... l'engine sui videogiochi... che secondo me era interessante... più che altro anche per me... quindi... alla fine... cercare un po' di... di vedere cose curiose... ma anche di coinvolgere... se si riesce anche a altre persone... perché hanno anche delle live un po' meno noiose... perché io divento un po' troppo noioso... ecco... questo me ne rendo conto... e quindi... è vero che è sempre una live di programmazione... le altre che seguo... non sono particolarmente entusiasmanti... tranne qualcuno che ha un canale particolarmente... spinto e straspinto... però... al netto di questo... come dire... si fa quello che si può... non sono stream professionista... e quindi... tutto molto amatoriale... quindi si fa quello che si può... questo per dire che... quindi direi che fino al prossimo anno... non ci si vede... la prossima live... se riusciamo... facciamo la live... corale per... però... devo sentire un attimo... che diavolo stanno facendo qui... ma che roba stanno facendo? ho cambiato idea sul ride... e qui sono troppo pazzi... quindi... guarda di... no... c'è un rischio grosso di cose strane... quindi... per cui... facciamo un altro canale... per cui... ci vediamo nell'anno nuovo... con nuove entusiasmanti... avventure... vedremo di portare anche magari qualcosa di... di diverso... cioè di correlato... magari anche di diverso... tipo framework, javascript... cose che mi... che mi sto studiando per forza... volente o nolente... quindi... ci può stare... e quindi... detto questo... andiamo a trovare... andiamo a fare anche... preparare questo... questo ride... anche se non so come andrà... perché le persone le vedo... impegnate... io ringrazio... quindi... rimanete per il ride... ringrazio come sempre... quelli che ci sono sempre... quelli che comunque... ogni tanto passano... sbirciano... su youtube... le repliche... filmati... supporter... che tanto so che... non seguono... non vedono le repliche... ma supportano comunque... quindi... questo... in ogni caso... un buon anno... a tutti... lavorativamente... parlando... e speriamo che non sia... sia meglio di questo... anche se... meno questo... ha avuto le sue sfortune... ma anche le sue fortune... insomma... bene o male... è andato... un mitico giotto Geno... per cui... direi che... vi ringrazio come sempre... per la partecipazione... rimanete per il ride... ci rivediamo... l'anno... l'anno prossimo... quindi pensate che... fino al prossimo anno... non farò live... ah ah ah... vabbè... questo si dice sempre... ma... vabbè... non dirò quello... l'augurio che mi hanno fatto oggi... che... era abbastanza scurrile... a tema di... era un buon anno però... togliendo una lettera di troppo... quindi rimanete per il ride... ci rivediamo il prossimo anno... grazie di nuovo sempre per la... per la presenza... e direi... alla... alla prossima... con la programmazione e coding... su questo modestissimo canale... grazie a... al buon... Shade... Shades... non vedete Shades... non so se è andato... è andato a Nanna... e... che è arrivato... stasera... spero che la descrizione di Filo abbia incuriosito... e direi... se no... nelle prossime live... ci sarà molto di approfondire... senz'altro... quindi... grazie mille... di nuovo... buonanotte... buon anno... a tutti... buon anno... alla prossima... ciao... è... Grazie a tutti.